Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap, è stata una settimana anche questa molto intensa, alla quale ci siamo occupati soprattutto delle malattie infettive che stanno in qualche modo aggredendo il mondo zootecnico, da un lato la viaria, poi c'è la pestesulina, la brucellosi, tutte questioni che stiamo affrontando con grande determinazione, in particolare abbiamo avuto un importante convegno di presentazione del nostro piano di gestione della fauna selvatica lunedì scorso, poi c'è stata una riunione in Commissione Agricoltura in cui ho descritto le cose che si stanno facendo in Regione Campania, la Regione che è riuscita a isolare i due casi di aviaria che erano stati rinvenuti e che comunque ha avviato delle procedure per la tracciabilità e per capire come erano arrivati fino in Campania. Per quanto riguarda la pestesulina siamo sicuramente tra le regioni all'avanguardia, abbiamo messo in campo un protocollo di sicurezza che in qualche modo pone la Campania a un passettino più avanti anche in funzione del piano di gestione che abbiamo già messo in campo. Poi c'è la brucellosi, la quale stiamo continuando a incontrarci, c'è un dialogo attivo, saluto anche Peppe e Adriano che hanno interrotto lo sciopero della fame, c'è un dialogo attivo con tutti gli attori e stiamo cercando di trovare una soluzione che possa contemperare tutte le esigenze. Sono molto fiducioso perché noto anche un atteggiamento costruttivo da parte di tutti i coloro che si stanno interfacciando con noi. In settimana prossima avremo un tavolo tecnico, poi una definizione del piano evidentemente con il Ministero e con gli istituti zoprofilattici referenti sia per tubercolosi che per bucellosi. Insomma c'è grande determinazione e questa questione penso che possiamo risolverla anche a breve sulla base dell'incipit del Presidente De Luca, rigore da una parte ma anche grandissima vicinanza agli elevatori, cosa che stiamo dimostrando in queste ore accogliendo molte delle proposte che ci sono state avanzate. C'è stata anche un'importante riunione tecnica sulla forestazione, nella quale abbiamo parlato anche di OTD e di possibile stabilizzazione, abbiamo avviato lo screening in questa commissione tecnica con la presenza anche dei consiglieri regionali della commissione agricoltura. Ci rivedremo la prossima settimana nella quale dovremo mettere in campo tutta una serie di attività orientate alla definizione del documento di programmazione forestale e del piano strategico industriale per definire una volta per sempre questo che è uno dei problemi che attanaglia la nostra regione da diversi anni. Questa è stata una settimana nella quale c'è stata anche la commissione politica agricola della conferenza delle regioni, molti gli argomenti, ovviamente si è parlato anche lì di peste suine, del problema dei cinghiali. Abbiamo evidenziato la necessità di istituire un coordinamento nazionale per cercare di arginare e soprattutto di tracciare questa infezione. Nel contempo però vanno anche messe in campo misure straordinarie a livello nazionale, è quello che ho chiesto anche io in particolare, perché il governo non può fare spallucce rispetto alle tante richieste che arrivano dalle regioni e noi come commissione politica agricola stiamo avanzando da diversi mesi proposte per quanto riguarda soprattutto la questione dei cinghiali. Sempre in Cpa abbiamo dato il via libera al FEAMPA, quindi la programmazione adesso passa anche ad un'interlocuzione più veloce con le regioni, dobbiamo iniziare velocemente a programmare le risorse anche per questo nuovo periodo di programmazione. Sempre in Cpa abbiamo anche discusso della questione del prezzo del latte, io ho contestato la proposta avanzata dal Ministero che differenziava gli aiuti a seconda delle regioni del nostro Paese, ho detto che gli allevatori sono gli stessi in tutto il Paese e che anzi forse proprio per la tipologia di allevamento che esiste nelle regioni centro-meridionali, gli allevatori del sud e del centro forse meritano maggiore attenzione. Comunque alla fine abbiamo elaborato un documento che elimina questa discrepanza e soprattutto chiede al governo di intervenire maggiormente sul prezzo del latte, fissandolo a 0,46 e non a 0,41. Ma ci sono state numerosissime riunioni sulla questione dell'Ajac, sui sistemi informativi dell'autorità di gestione, sui distretti, sia i distretti del cibo che i distretti rurali. Su tutti ovviamente stiamo cercando di far avanzare questa regione, in particolare per la questione dei distretti abbiamo dato un deadline alla prima settimana di febbraio per chiudere le procedure in corso ma soprattutto per avviare un secondo step che è quello della razionalizzazione che deve portarci alla identificazione di distretti che siano veri interlocutori delle politiche regionali. E mi fermo qui, saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento alla prossima settimana, il saluto speciale di questa settimana, ma davvero specialissimo, è per i tanti giovani allevatori che sto incontrando in queste settimane, negli occhi dei quali vedo grande speranza e una speranza che dobbiamo come istituzioni sicuramente assecondare. Ciao a tutti! Grazie a tutti!